I mestieri di un tempo a disposizione della nuova generazione. Questo è l'obiettivo della realizzazione del nuovo centro di aggregazione giovanile a Fuscaldo che questo pomeriggio alle 17 verrà inaugurato nel complesso di proprietà comunale che si trova in via Antonio Valenza. Uno scambio di esperienze, un laboratorio artistico e di idee che punta al recupero della memoria storica della comunità fuscaldese attraverso la realizzazione di prodotti su cui verranno digitalizzate testimonianze storico-culturali come foto, articoli e libri. Al progetto ideato dall'Associazione Locale I Binari della Vita ha contribuito la On Lusse nel Cuore che oggi sarà a Fuscaldo per il taglio del nastro. Atteso tra gli altri anche l'assessore al bilancio della Regione Calabria Giacomo Mancini. L'Associazione Binari della Vita di Fuscaldo ha presentato un progetto che noi abbiamo ritenuto meritasse il nostro appoggio. Hanno elaborato un progetto riadattando un vecchio immobile comunale nel quale far incontrare le esperienze delle vecchie generazioni affinché non si perdessero con le necessarie esperienze che devono fare i giovani. E quindi tramandare, possiamo racchiudere in sintesi il progetto, tramandare i saperi del passato alle nuove generazioni perché le nuove generazioni su questi saperi fondino le loro esperienze. Invitiamo chi ne avesse interesse a venire a vedere perché è davvero una buona, un'ottima iniziativa per vedere cosa si muove sul territorio. È dato per certo la presenza dell'assessore al bilancio Giacomo Mancini, ovviamente del sindaco delle istituzioni locali. So che dovrebbe essere presente anche il presidente della provincia, mi dicevano. Non sono certo di questo, però mi pare che sono rappresentati a livello istituzionale in tutti i gradi.